queste cover crystal class della colla real per iphone 7 plus come possiamo vedere arriva con sotto tutte le aperture angolo rotondato tasti volume l'angolo trasparente potete osservare ci stanno rinforzi ai lati vedete che sono tutte rinforzi che dire è morbida ma nel stesso momento anche bella protetta io la consiglio a tutti